Per la tragedia di Corinaldo, quella di oggi è la giornata delle perizie tecniche esterne e dall'interno della lanterna azzurra. Due i periti in campo, l'ingegnere Costanzo Di Perna, professore ordinario di fisica, tecnica ed ambiente all'Università Politecnica delle Marche ed il tenente colonnello Marcello Maggione, ingegnere in forza al Comando Generale dei Carabinieri. Al setaccio tutte le strutture della discoteca, teatro della strage del 7 dicembre scorso, dove sono morti 5 minorenni ed una giovane mamma. Si va alla ricerca della sostanza urticante che ha scatenato il fuggifuggi generale e che ha causato poi all'esterno il cedimento della balaustra in ferro lungo lo scivolo che porta al piazzale, fuori dalla discoteca. Per cercare tracce di capsaicina, il principio attivo presente negli spray peperoncino, sono stati smontati alcuni pannelli del soffitto, analizzati i residui dell'interno dell'impianto di aereazione e della macchina della nebbia artificiale. Verifiche anche strutturali sulla famigerata balaustra in ferro che ha causato la strage di ragazzi, per cui sono state indagate 10 persone, tra cui il minorenne sospettato di aver usato lo spray peperoncino, presenti nel locale, anche tecnici dell'ARPAM, illegali delle famiglie delle vittime ed alcuni presenti alla serata. Inoltre, in queste ore, gli inquirenti hanno disposto il sequestro di cellulari ed altri dispositivi informatici di ragazzi non indagati alla ricerca di altre foto o video che possano chiarire tutti gli aspetti di quella tragica sera.